Come faccio a scegliere dove studiare architettura? Quali sono le differenze fra le varie università di architettura? E soprattutto, qual è la facoltà più adatta a me? Se anche tu ti stai ponendo queste domande e provi un senso di smarrimento verso il futuro, beh, sappi che è perfettamente normale. Sei alla ricerca della tua strada e devi prendere una decisione molto importante, l'incertezza è parte del processo. Come sicuramente avrai notato, è piuttosto semplice trovare informazioni sui siti delle varie università, anche se quasi mai sono sufficienti per prendere una decisione veramente consapevole. È come se mancasse sempre l'ultimo tassello. Bene, oggi proveremo a risolvere questo problema facendo qualcosa di diverso. Parleremo di università di architettura attraverso il racconto delle studentesse e degli studenti delle università stesse. Forse non mi sono presentato. Ciao, mi chiamo Luca e sono architetto. Il mio canale si chiama Archisax, l'ho creato come spazio virtuale per raccontare storie e raccogliere testimonianze. In questo video e in quelli che seguiranno ti aiuterò a scegliere dove studiare architettura, grazie alla visione di chi le università di architettura ha imparato a conoscerle veramente molto bene. Scegliere dove studiare architettura non è affatto semplice. Per aiutarti in questa cosa ho pensato a otto domande che più di tutte possono aiutarti a conoscere come è la vita, anche quotidiana, all'interno di una facoltà di architettura. Queste domande riguardano gli aspetti che secondo me sono i più importanti all'interno del percorso di formazione di un architetto e riguardano i corsi prevalenti, i servizi offerti, le opportunità di scambio con l'estero. E poi, naturalmente, parleremo anche di com'è studiare architettura in una certa città. Perché lo sappiamo, per noi architetti il luogo in cui siamo è particolarmente importante, ci ispira, ci guida e questo ti assicuro è un punto fondamentale del percorso di formazione. Prima di iniziare però ci tengo a ringraziare chi ha accettato il mio invito a prendere parte a questo video. Sono ragazzi e ragazze che hanno reso possibile questo contenuto e che hanno raccontato con grande forza la loro passione. Tutti loro si sono messi in gioco, parlando con sincerità della loro università, senza slogan pubblicitari, ma semplicemente raccontando le caratteristiche principali, che cosa funziona e anche cosa dal loro punto di vista potrebbe essere migliorabile. Ci tengo a ringraziarli soprattutto perché hanno capito l'idea alla base del mio canale. Si tratta di un progetto di comunicazione in cui l'esperienza di una persona, se ben raccontata e anche se condivisa, può diventare un valore per tutti. Se anche tu sei d'accordo e condividi questa idea, iscriviti subito al mio canale, metti un like a questo video e lasciami un commento qui sotto dove mi scrivi che cosa ne pensi delle prime tre università di architettura che ti porterò a scoprire oggi. Così e solo così potremo crescere insieme e continuare a sognare l'architettura. Iniziamo! Incominciamo da una delle facoltà di architettura più note d'Italia, un'università piccola ma con una grande tradizione e una storia iniziata nel 1926. Siamo nell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, meglio noto come UOV, dove ci aspetta qualcuno che conosce molto bene questa università. Ciao, sono Luca e ho appena concluso poche settimane fa gli studi magistrali all'Università UO di Venezia. Com'è studiare l'architettura all'UOV? Allora, sicuramente ti porta a un importante senso di appartenenza anche alla città, non solo all'università. È stato, parlo al passato e parlo soprattutto di esperienze personali lungo tutta questa chiacchierata perché solo quelle posso valutare. Ha sempre avuto un lato della medaglia buono, l'altro meno buono, però sicuramente positivo perché secondo me ti può portare a dei valori anche non solo universitari e accademici ma che ti aiutano poi a contribuire al tuo futuro, insomma la tua persona, quello che vuoi fare. Poi se uno continua ed è deciso su quello che hai in mente di intraprendere, la strada è già aperta. Quali sono i corsi prevalenti? Allora, l'ordinamento è mutato spesse volte, adesso c'è anche più libertà di scelta del tipo di corso e di percorso poi che si vuole intraprendere. Sicuramente i corsi laboratoriali, progettuali, di progettazione sono i più importanti e si parla sempre di integrato, cioè laboratorio integrato, nel senso che sono più discipline, dalla progettazione alla fisica tecnica alla paesaggistica urbanistica eccetera, che lavorano a un unico progetto, con un unico fine, un unico scopo, che poi è un po' anche lo specchio della professione. Poi oltre a questi, che secondo me sono i più importanti e i più affascinanti, poi ti portano a definire la tua idea progettuale, un minimo, secondo me, negli ultimi anni e poi costruisci un po' quello che è la tua idea. Poi ci sono soprattutto, secondo me, i WAV, che sono i workshop estivi di architettura, nazionali, internazionali, in cui vengono invitati architetti professionisti e docenti, da un po' in tutta Europa, anche il mondo a volte, e sono molto interessanti perché ti mettono in un'ottica quasi più di Biennale di Venezia, cioè di Mostra, però sono dei laboratori pratici. Quali sono le skills più importanti per affrontare la tua facoltà? Prima di tutto, chiaramente non dal primo anno, perché quest'anno è un percorso, e mettersi nell'ottica di avere la mente aperta, essere curiosi, andare oltre gli appunti della lezione del prof, del professore, oltre il libro, poi ci sono appunto anche strumenti, ci sono conferenze, eccetera, che anche lo UOV, come tutto e un po' le facoltà d'Italia, mettono a disposizione, organizzano, che ti aiutano, secondo me, in questo. E anche, deve esserci chiaramente anche un lavoro personale, deciso, abbastanza definito, e in via di definizione, poi negli anni, però, sì, un lavoro continuo, che va oltre le 19 quando finisce la lezione e riprende la mattina dopo, no? Secondo me è sempre con quell'idea lì. Cioè, se la mia idea, se il mio scopo è fare l'architetto, o lavorare in questo ambito, mettersi nell'ottica di poter fare tutto ciò che posso fare per rendere al meglio quello scopo. E secondo me, per quanto riguarda la mia facoltà, ma penso un po' anche in generale, questo è importante anche durante i corsi di progettazione laboratoriale. Il progetto, l'idea finale, poi, è un insieme di tanti punti brainstorming che ti vengono senza neanche pensarci. E questo va allenato piano piano, insomma, definendo un po' appunto la strada che uno vuole intercorrere progettualmente o lavorativamente parlando. Come valuti i servizi a disposizione? Allora, per quanto riguarda, io mi avrei da parlare prima, in primis, della biblioteca, del chiostro di Tolentini, che come spazio pubblico aperto è ottimo, perché è un chiostro, perché è un bellissimo luogo in cui fare le pause, passare tempo, fare le chiacchiere, confrontarsi con amici, prendere un caffè, uno spritz, eccetera. La biblioteca, penso che sia una delle più fornite a livello nazionale, e ci si lavora molto bene, possiede un gran numero di testi. Poi, dal punto di vista, siccome, delle aule studio, alcune sono dentro la biblioteca e sono ottime per studiare, lavorare. Altre, invece, a livello, per esempio, al cotonificio, in cui ci sono le aule delle lezioni, eccetera, in cui sono aule ottime, perché sono spaziose, eccetera, luminose, tutto, però hanno un po' di problemi, secondo me, di orari. Una cosa, una critica che vorrei fare, che mi piacerebbe, se tornassi indietro a avere lì, avere orari più espansi, diciamo, più liberi, ecco. Come sono le opportunità di scambio con l'estero? Allora, le opportunità di scambio sono, che lega l'Università di Venezia all'estero, sono molto buone, e penso che sia uno dei suoi punti forti, anche, nel senso che ha numerosi legami e i progetti di scambio sono sempre molto ricchi e accessibili. Anche l'organizzazione e il dialogo tra università e studente in questo campo è forte, su questo punto di vista. Quindi, dal punto di vista dell'Erasmus, ottimo, anche nei treccini post laurea, comunque, sono sempre molto spinti dall'Università. Cioè, ti spingono sempre, comunque, molto a guardare, vivere fuori e metterti un po' alla prova, insomma. In assoluto. Qual è il punto forte dell'OIUAV? Allora, secondo me, sicuramente, il rapporto con la città che la ospita e quel senso di appartenenza che dicevo prima a Venezia ti aiuta un po' a definirlo e io l'ho vissuta da fuori sede, per cui, piano piano, ho anche imparato a vivere, oltre all'università, una città. Cosa, invece, cambieresti? Forse l'organizzazione, a volte, e il dialogo tra amministrazione e studenti, anche se non dico probabilmente niente di nuovo per alcuni, tra struttura amministrativa e, soprattutto, anche, come dicevo, prima gli orari di apertura delle sedi e, diciamo, un ritorno un po' all'identità che l'OIUAV aveva forse una volta e che adesso magari si è andata un po' ad affievolirsi nel corso degli anni, secondo me è un po' nel panorama intero italiano, però, sì, ritrovare un po' quel ruolo che identifica una scuola più che un'altra, ecco. Parlando di città, com'è studiare l'architettura a Venezia? Allora, Venezia sicuramente non ha bisogno di presentazioni e non sono io la persona più adatta, però devo dire che viverla da fuori sede e quindi imparare a vivere, a prendere dei ritmi diversi da quelli che avevi prima, non solo perché vivi da solo, ma anche proprio perché sei una città diversa, già quello è una bella cosa, è un fattore importante aggiuntivo. Venezia, secondo me, insomma, ti porta ad avere un collegamento e un rapporto con la città stessa, con le calli, con i ritmi, con lo spritz delle 18 e secondo me è impagabile e porterò sempre con me perché è fondamentale. E secondo me ti insegna anche appunto a vedere le cose in maniera diversa. È una bellissima esperienza che comunque consiglio. Cioè consiglio comunque di mettersi in discussione, andare fuori il proprio, come dire, comfort e migliorarsi così perché secondo me è importante. Fantastico Luca. Grazie. Da Venezia voliamo subito in un'altra straordinaria facoltà di architettura che da quasi 160 anni forma alcuni fra i designer e gli architetti più talentosi al mondo. Siamo al Politecnico di Milano, qui, guidati da Greta. Ciao, mi chiamo Greta e studio il Politecnico di Milano. Com'è studiare l'architettura al Politecnico di Milano? Allora, io ho fatto sia la triennale e sto ultimando adesso la magistrale, sempre iniziato il Politecnico e lo sto concludendo lì. E la sto facendo questa magistrale in inglese, quindi per queste ragioni credo di poter dare un giudizio abbastanza completo riguardo alla mia università. È un luogo dove bisogna interpecciarsi con diverse persone, diverse realtà, diversi modi di lavorare e credo che questa eterogeneità all'interno del mio teneo possa rendere stimolante studiare l'architettura qui. Quali sono i corsi prevalenti? Allora, il Politecnico di Milano offre una forte base teorica e pratica. I corsi principali sono prettamente scientifici e di storia e teoria dell'architettura. D'altro canto però ci sono i vari lavoratori progettuali. Di default due a semestre, alcuni però hanno anche una durata annuale. Si possono considerare abbastanza fondamentali per poter iniziare a comprendere meglio l'iter progettuale di un progetto che sia di architettura o di urbanistica e quindi di conseguenza anche i corsi teorici aiutano tantissimo nel percorso. Quali sono le skills più importanti per affrontare la tua facoltà? Non è tutto rose e fiori, quindi momenti difficili ci sono e detto questo credo che bisogna avere soprattutto tanta perseveranza, tanta sostanza e tanta tenacia. Non è un'università per tutti, nel senso che bisogna davvero impegnarsi, e dedicare parecchie ore, parecchie notti allo studio e ai progetti. Inoltre, dato che molti dei progetti sono lavori di gruppo, secondo me anche saper lavorare in gruppo, comunicare ed essere elastici, sono prerogative fondamentali. Come valuti i servizi a disposizione? La mia università è sviluppata su due quartieri centrali di Milano, città studi Piola e Lambrate, quindi in realtà abbiamo parecchi servizi, aree comune, aree e vie pedonali, che permettono comunque sia di vivere bene il Politecnico e di percorrerlo facilmente. Abbiamo due menze, spazi di ristoro indoor e outdoor. Abbiamo ultimamente anche sviluppato un laboratorio di modellistica e una sorta di deposito dove poter appunto lasciare i propri modellini e progetti. e infine abbiamo anche il campus sportivo, quindi è anche semplice poter alternare sport e università nel nostro campus. Come sono le opportunità di scambio con l'estero? Diciamo che Milano comunque sia, tra tutti i Politecnici, è quella, tra virgolette, un po' la hub e quella più oberata per quanto riguarda il discorso Erasmus e doppie lauree, soprattutto con le università d'architettura cinesi tipo Pechino, Shanghai, Hong Kong, Taiwan e così via. Ma anche se nel caso si volesse cercare comunque sia un qualcosa a livello nazionale o anche proprio nella città stessa di Milano, abbiamo questo servizio che si chiama Career Service dove da una parte le aziende offrono periodi di stage, tirocini e esperienze lavorative agli studenti e tu studente puoi caricare il tuo curriculum per poter cercare esperienze da fare. In assoluto, qual è il punto forte del Politecnico di Milano? Non ce n'è uno, però a parte la multiculturalità che ho detto prima, il presente in Ateneo e la diversa eterogeneità nella proposta didattica, credo che anche l'alto livello dei docenti sia fondamentale perché comunque molti sono studiosi, architetti teorici, di architettura urbanistica e comunque riescono anche con abbastanza chiarezza e precisione a spiegarti certi argomenti, certe dinamiche che magari potrebbero risultare un po' tediosi, è un po' difficile da comprendere. Cosa invece cambieresti? Come ho detto prima, niente, perfetto. Cambierei qualcosa di burocratico e di organizzazione, ma per il semplice fatto che forse gli impiegati presenti nelle segreterie, per esempio, sono troppo pochi rispetto al numero di richieste presenti dagli studenti, ma se dovessi guardare una cosa che non riguardi appunto l'aspetto organizzativo sarebbe che c'è un livello di competitività a volte un po' incentivata dagli professori e non credo che questa cosa sia sana, nel senso che certo, nel mondo reale del lavoro l'obiettivo da perseguire bisogna raggiungerlo con tutti i mezzi e con tutti gli sforzi di un team, ma bisogna anche terremamente che ci si ritrovi in un contesto universitario, quindi è più importante iniziare a capire come collaborare, come supportarsi a vicenda, soprattutto se ci si ritrova alle prime armi con tematiche che non si sono mai affrontate e con determinate tempistiche da seguire. Parlando di città, com'è studiare l'architettura a Milano? Penso che sia stata una delle scelte migliori che avessi mai potuto fare, non solo per il contesto in sé, non solo per il tipo di offerta che può offrirti appunto il Politecnico, ma per come riesci a formarti, nel senso ci sono giorni belli, giorni brutti, periodi difficili, periodi stressanti, però io rispetto a qualche anno fa mi rieputo un pochino più forte, più sicura di me, più determinata e non dico che ti permette di capire completamente il mondo dell'architettura, però ti dà una base, un'infrarenatura, un input che poi sa te sviluppare nel mondo del lavoro successivamente. Fantastico Greta, grazie mille! Prego! Prego! 150 chilometri più ovest di Milano, c'è un'altra grande e storica facoltà di architettura. Anche questa è una delle più apprezzate università italiane. Eccoci arrivati al Politecnico di Torino, dove ci aspetta qualcuno che ci darà un aiuto nel conoscere meglio questa università. Sono Ottavia e studio al Politecnico di Torino alla Magistrale di Architettura, Costruzione e Città. Com'è studiare l'Architettura al Politecnico di Torino? Allora, studiare il Politecnico è dura, è difficile, perché è un'università molto tosta proprio per i ritmi che impone, perché comunque è un Politecnico quindi non ha i ritmi della classica facoltà di architettura. Per cui i ritmi sono serrati e le cose da fare sono molte. Sicuramente è stimolante perché c'è tanta competizione e i professori pretendono e quindi negli anni... all'inizio si fa fatica, negli anni in realtà è una cosa che si apprezza, perché al di fuori dell'ambiente universitario, nell'ambiente lavorativo, sicuramente è utilissimo sentirsi messi alla prova in continuazione, ecco. Quali sono i corsi prevalenti? Diciamo che ci sono tanti laboratori pesanti, quindi magari da molti crediti, però diluiti, quindi uno a semestre, in generale. Poi l'unico semestre in cui non si hanno corsi di progettazione sono l'ultimo di ogni ciclo, quindi l'ultimo di triennale e l'ultimo di magistrale. Però in generale devo dire che anche le materie scientifiche ce ne sono abbastanza, ogni semestre sicuramente si ha una materia scientifica, però la cosa bella è che in magistrale si ha la possibilità di scegliere diversi indirizzi e quindi anche i corsi che ci interessano di più, per cui non so se, per esempio, interesse di più urbanistica rispetto a restauro, si sceglie un indirizzo piuttosto che un altro e questa è una buona cosa, perché magari nell'università ciclo unico questo è un po' più complicato, ecco. Quali sono le skills più importanti per affrontare la tua facoltà? Sicuramente quella di essere trasversali, perché sapere usare più programmi, non per forza tutti, al 100%, però almeno un minimo, è importantissimo e la stessa cosa vale per le materie, cioè programmi e materie sono due cose per la quale bisogna essere trasversali al massimo. Ho imparato che molto spesso chi sa usare bene soltanto una cosa non è per forza più bravo del corso, anzi, e invece chi ha più successo in ambiente universitario è chi comunque sa spaziare e sa arrangiarsi in qualche modo in ogni situazione. Come valuti i servizi a disposizione? Per alcuni versi ottimi, per altri un po' meno, nel senso che magari la cosa che ho notato rispetto ad altre università migliore è quella di dare la possibilità di stampare gratuitamente. Ci sono un sacco di servizi, però non in tutte le sedi, per quello che mi verrebbe da dire ottimo, però poi se ripenso all'ultimo periodo della magistrale dove ero in una sede diversa, perché la magistrale mia è all'ingotto, ecco all'ingotto per esempio non c'è la mensa, per cui i servizi sono buoni in relazione anche alla sede in cui si studia. Come sono le opportunità di scambio con l'estero? Le opportunità di scambio sono ottime, nel senso che i bandi Erasmus sono ampi e soprattutto la cosa bella del Politecnico che stanzia delle borse in più, nel senso che quando si ottiene una borsa Erasmus in realtà il Politecnico ti dà dei soldi in più rispetto a quelli che ricevono le altre università ci mette una quota proprio lui stessa e in più ci sono anche tanti programmi quindi non solo con l'Erasmus ma anche di tirocini all'estero tesi all'estero per cui io direi che è ottima e in più una cosa buona è anche la possibilità di fare la doppia laurea con l'università cinese e qui anche quello magari ci metti un attimo in più però è una buonissima cosa. In assoluto qual è il punto forte del Politecnico di Torino? Secondo me il punto forte è quella di dare una buona capacità di rappresentazione dell'architettura quella di dare come dicevo prima la trasversalità e quindi sapere spaziare in quasi tutti gli argomenti Cosa invece cambieresti? Cambierei metterei più tirocini ecco forse sì perché a volte i corsi non danno la stessa competenza che può dare altri lucini quindi ne metterei gli obbligatori e non solo facoltativi di più per poter rendere tutti comunque preparati e non solo chi sceglie proprio di farlo Parlando di città come studiare l'architettura Torino? Torino è una bellissima città è bella anche perché le sedi tutte e tre le sedi sono molto belle perché il Politecnico Centrale ha un'ala proprio dedicata all'architettura molto bella la seconda sede è il Castello del Valentino quindi è una bellissima sede la terza è quella del Lingotto che è stimolante perché è uno spazio anche se vecchio ma ristrutturato a nuovo da Enzo Piano perché è uno spazio molto stimolante e poi il tempo libero si gestisce potendo far di tutto perché offre cultura offre svago offre qualsiasi cosa in più i costi non sono quelli di una città estremamente cara perché comunque Torino non è non è Milano i costi sono più bassi fantastico Ottavia grazie mille grazie a voi oggi abbiamo scoperto tre facoltà straordinarie ma il percorso è appena iniziato nella descrizione del video troverai alcune info utili tra cui link ai siti delle università in modo da poterli consultare velocemente se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lasciami un commento non hai idea di cosa sta per succedere nel prossimo video scopriremo anche la facoltà di architettura dove iniziò a studiare e rimase per un breve periodo anche a Enzo Piano non puoi perdertelo non puoi perdertelo ma